Anno 2014, un anno ancora difficile sicuramente per le politiche sociali perché i bisogni crescono, le risorse non aumentano in modo adeguato, ma sono soddisfatta del mantenimento delle cifre nel bilancio regionale, quindi la giunta regionale che ha mantenuto il suo impegno sull'asse sociale e poi stiamo seguendo passo passo la legge di stabilità ormai arrivata, giunta al suo termine della discussione, per capire quante risorse arriveranno dal nazionale e combinare insieme in modo più virtuoso possibile risorse nazionali e regionali da distribuire sul territorio per quegli obiettivi che il piano sociale integrato indicava nella sua approvazione di agosto. Sappiamo che abbiamo qualche risorsa in più sulla non autosufficienza che ci permetterà anche qualche nuova sperimentazione, purtroppo sottodimensionati invece il fondo alle politiche sociali e il fondo famiglia, quindi tutto il finanziamento dei nidi, ma speriamo ancora in qualche battuta ultima della legge di stabilità. Noi stiamo cercando di lavorare molto sulla programmazione, per questo vorremmo anche che le poche risorse che ci arrivano dal nazionale avessero almeno una loro continuità per permettere una programmazione pluriennale. Noi da nostro canto cerchiamo di mettere a disposizione risorse stabili perché gli enti locali hanno bisogno di programmare, hanno bisogno di andare avanti nel loro processo di associazionismo comunale per riuscire sempre di più a realizzare insieme servizi e risposte per i cittadini che hanno parecchie difficoltà. In un momento anche di crisi le povertà aumentano, quindi ai vecchi bisogni si sommano anche bisogni nuovi, quindi noi dobbiamo fare attenzione, supportare le persone più fragili in questa fase così delicata. Grazie a tutti.